I primi 20 chilometri. 36 ore di diretto mi conducono in un fiato da Milano a Reggio Calabria. Scendo, disimballo la bicicletta che avevo difesa per precauzioni di quei 1400 chilometri ferrovia e riparto immediatamente. Sono le 9 del mattino. I primi 20 chilometri corrono presso a poco piani lungo il mare costeggiando lo stretto di Messina. La Sicilia è a circa 3 chilometri di distanza. Il canale ha qualche somiglianza con lago Maggiore. Tre grossi vapori solcano lo specchio azzurro lasciandosi dietro una larga scia divergente. Messina è schierata di fronte, candida nel sole brillante, a piedi delle madonie, non tanto alte da nascondere a sinistra il cono nevoso dell'Etna. Lungo la spiaggia innumerevoli imbarcazioni da pesca e di piccolo capotaggio, reti, argani per trarre le barche in secco, piccoli cantieri per calafati, lavanderie, qualche rudimentale stabilimento di bagni, casotti di finanzieri, frotte di ragazzi e ragazze a gambe nude che fanno il chiasso, pescano con la lenza o raccolgono frutti di mare. Una spiaggia formicolante di vita come quella ligure. La campagna è ridente, simile a quella dei dintorni di Napoli, con una nota di maggior rigoglio. Si è sempre tra aranceti e limoneti, in un inebriante acuto profumo di fiori d'arancio, di cedro, di limone, di bergamotto. Sono le nozze della natura. Il paese qui è industriale. Numerose importanti filande di seta, parecchie con un'architettura disadatta di chiese ma riuscite. L'occhio dalle finestre vede interni disposti bene, con macchine perfezionate. Molti capitali sono d'inglesi, altri, e furono ritirati con ghiattura grave, delle banche, massime della generale. Di tanto in tanto nel mare, tranquillo e senza increspature, appare come un filo bianco di spuma che si allunga, si allunga fino a mezzo chilometro contorcendosi come un serpente, come se un grosso cetaceo corresse con la schiena al filo dell'acqua. È un gorgo, un innocente gorgo di quelli che ai poeti disoccupati delle antichità suggerirono la fola di Scilla e Cariddi. Oggi anche le più fragili barchette vi si avventurano senza pensarci più che tanto. Incontro verso Villa San Giovanni una bicicletta, l'unica che vedrò fino a Salerno. Messina resta dietro, costeggio di fronte la riviera meravigliosa del Faro. Una miriade di casette e di paesi lungo il mare si insegue sino alla punta estrema della Sicilia, che sembra immergersi nelle onde come digradando. Soltanto la Torre del Faro, col cupolino che dai cristalli rimanda ai bagliori accecanti del sole, si stacca diritta e affusolata sulle acque azzurre come sentinella avanzata. E più avanti, nell'atmosfera infuocata, il grandosso di un monte solitario emergente dal mare è lo Stromboli. Una donna mi saluta e mi dice venite dall'America? Evidentemente il mio assetto da viaggio, che del resto nulla ha di straordinario, le pare oltremarino. Corro in mezzo a siepi magnifiche di fragola, di rovi in fiore, di ginestre tutte gialle, di lunghi cespugli di gagge odoranti. In quell'istante il dolcissimo ritmo di Lola, la mia bicicletta, sembra sprigionarsi da ogni fiore, dal mare, dal cielo rovente, dai profumi acuti. Fior di gaggiolo, di angeli belli, è pieno il cielo. E lo scintillante volare delle ruote sulla strada bianca si accorda così bene con l'ambiente che la mia non è una corsa, è una poesia biciclettata. Il pesce spada. Di mezzo in mezzo chilometro, davanti alla spiaggia, a 4-500 metri da terra, sta ferma una barca, come avamposto in vedetta. Nella barca due o tre rematori pronti avvocare sulla prua, ritto, un fiociniere in attitudine di gladiatore che lancia il giavellotto. Nel mezzo della barca è infitto un palo alto 3 metri, alla cui estremità, poggiando i piedi sui due denti di legno, sta attaccato un uomo che spia. È tutto l'attiraglio per la pesca del pesce spada, che la spia vede di indistanza, che i rematori rincorrono, che il fiociniere trapassa. A distanza, la fila di barchette nere col palo e l'uomo indistinto, paiono scarafaggi appuntati in una custodia con uno spillo a capocchia grossa. E il loro sussidio stanno a terra sulle minenze più prossime a riva, altre vedette. Dove non vi sono rocce adatte allo scopo, si costruiscono altre torri di legname o di muratura, coniche come i nuraghi sardi. Scilla e Bagnara. È passando sotto una di queste alte torricelle che da un poggetto sbocco dinanzi a Scilla. La cittadina di 7.000 abitanti è ai piedi dello scoglio che l'Odissea rese celebre, simboleggiandolo in un mostro divoratore. Nel 1783 il terremoto distrusse quasi tutte le case, mentre gli abitanti si erano rifugiati in mare. La sera, un'altra scossa, gettò il mare sulla terra e 1500 persone vi perirono. L'altra roccia fu quasi distrutta e oggi solo i suoi ruderi dominano ancora in modo pauroso la marina. A Scilla le donne sono, mi dissero, famose per la bellezza, ma puzzano tanto che mi parvero tutte brutte. Il vino è di fuoco, vi sono delle gassose messinesi in bottiglie che contengono meno di un bicchiere. Nella locanda di Baviera, dove mi rifocillai, un ritratto di Garibaldi è posto accanto a un'immagine di padre Beccaro. Mentre mangio seduto in strada, molti poveri diavoli passano e nessuno, come nessuno mai in Calabria, mi chiede l'elemosina. Tutti calzano le scarpe. Più avanti la strada, sempre lungo il mare o poco più su, sempre bella e ben tenuta, è incisa da profondi burroni, da cui ispira una fresca brezza carica di profumi di aranci e di limoni. Incontro un armento di centinaia di pecore e capretti. Una cinquantina di questi, al mio passaggio, salgono sul muricciuolo del parapetto e si schierano salutandomi coi loro belati, quasi voci infantili. I pastori mi guardano con meraviglia e mi salutano allegramente e ciò misura la sorpresa che destra la bicicletta, poiché, da che l'Arcadia è morta, io non conosco essere più l'indifferente e poco dimostrativo del pastore. Abituato alla solitudine, al monte, alle intemperie, sembra che sia diventato impassibile quanto la natura che lo circonda. A Bagnara comincia una salita durissima. Ma qual vista dall'alto dei turnichè sopra il paese? Nessuna pietra vi rimane di ciò che Roberto il Guiscardo vi ha fatto fondandola. I terremoti hanno portato via tutto e completò l'opera, quello di tre anni or sono. Parte della borgata è scaglionata sul monte, il resto, tutto nuovo, è disteso sulla larga spiaggia, comodamente adagiato sotto i rossi tetti di tegole, come testuggine che stia asolando. Un grosso transatlantico fila verso Messina, giocattolo da ragazzi, immobile sull'acqua, rigato di bianco alla prua dal tagliamare e alla poppa dal filo d'acqua del condensatore, tutto nero sulla riga rossa dell'immersione, bianchi solo il ponte di comando e le caminiere. Quadretti. Salgo nel solleone i lunghi zigzag, a 300 metri d'altezza, sopra una fonte. Venite sitientes ad aquas e ci vado. Ma è acquaccia. Delle lavandaie mi apostrofano in diversi modi. Poco ne capisco, tranne che per giavanare tutto il mondo è paese. Rimonto in sella e via. La pendenza è del 75 per 1000. Il sole è d'ardeggiante. Tocco i 400 metri. Tocco i 500. Una strada esce a destra, maltenuta per Seminara. Uno dei punti più malinconici del terremoto del 1894. Raggiungo i 570 metri. È la cima. Dio come volentieri comincio la discesa. Poco più avanti, sopra un greto ferrigno, nello sfondo verde che le fa un'aureola agreste, sta immobile una figura di donna che mi ha visto venire e mi osserva. La gonna è rossa, il pugno sul fianco, porta in capo una grande anfora di rame. Mi guarda con occhio serio e profondo. Dov'è l'acqua? Mi facendo muovendo le sopracciglia senza dir verbo né trasalire in una fibra. Scendo a una grama fonte che mi ristora. È in un boschetto. Centinaia di ranocchi saltano nel pantano intorno alle ninfee, ficcandosi tra le canne. Il bianco fiore del loto fluttua incerto sull'acqua scarsa, nascosta dalle lenti palustri. Un gran salice piangente bagna le frondi che spiovono sul rivoletto. Che frescura, che tranquillità, che malinconia in quell'angolo nascosto. Rimonto alla strada. La figura di donna non è più là sul ciglio. Se n'è andata, cammina davanti come un'ombra, lenta, solenne, dondolando le anche, dileguandosi nel ceduo, almea silenziosa in quella rustica coreografia. Scendo la ripida strada che cala alla marina, incassata in trincea entro boschi stupendi di ulivi. Mai vidi piante così grandi e rigogliose, ricche di fogliame abbondante, dal grigio fusto sano, grosso, quasi dritto. Sotto, campi di fave alternati a lunghe estensioni coperte di felci e qualche macchietta rossa di contadino a riparo del sole meridiano. Passo davanti a un porto di legno su cui è scritto città di Milano. Più oltre venne un altro, poi più in basso, in una pittoresca radura del bosco, un'intera dozzina. È Palmi Baracche, la palmi provvisoria del dopo terremoto, ancora abitata. Il monumento squallido della beneficenza, in quel ridente cimitero pieno di verde, di sole e di vittime. Una baracca serve da osteria. Uno stessa ci sposa, orrida, mi accoglie. Fuggo carico di aranci e di pulci. Il piano di gioia e la malaria. Eccomi alla marina di gioia. Una strada incrocia la mia con questa indicazione. Strada nazionale dal Tirreno a Lionio. Bei nomi, ma tremendo paese. Qui comincia il piano di gioia, di creta alluvionale, sedimento dei fiumi Petrace e Mesima. Per 20 chilometri si corre nelle macchie, poi lungi dal mare. La malaria è qui terribile dall'agosto all'ottobre. A gioia, il personale della stazione è cambiato ogni 24 ore. Persino i contadini, livida processione, prima del cadere del sole, fuggono verso Palmi. Eppure la vegetazione è meravigliosa. Gli uliveti imponenti, vasti campi di fave si alternano a cedui inestricabili, a macchie dense, irte di rovi. Ma dove il terreno è scoperto, ivi dissecca e si rapprende, screpolandosi in grosse e dure zolle friabili, come l'argilla figulina. Quella crosta quasi pietrosa, che diventa rovente al sole, fa fermentare e ribollire il sottosuolo umido, che per l'impermeabilità sua trattiene l'acqua. Introducendo un bastone tra zolla e zolla nelle screpolature, a 40 o 50 centimetri, si incontra un fondo di melma entro cui la punta sparisce per uno o due metri. È là l'officina micidiale dei miasmi. È da quelle fenditure traditrici che lo spettro della malaria sbuca maligno e non visto. E prende ai precordi il contadino indifeso perché fiacco e lo inchioda alla gleba, ucciso dai brividi del freddo sotto il rovello del sole. Tremendo è il caldo presso Rosarno. Con una piccola diversione scendo la ferrovia, dove da tre mesi c'è una fontana passibile di acqua condotta. Incontro una donna di orribile sporcizia che pulisce il naso di un moccioso marmocchio di sei anni con le dita e asciuga la mano sul proprio viso. Salute! Riattacco la lunga salita solitaria in mezzo ai campi e ai boschi. A 360 metri di altezza, verso sera, entro in Mileto. Mileto! La borgata si presenta povera e meschina. Le case sono tutte a un piano, ricostrutte dopo il terremoto del 1783 che le rase al suolo. Si vedono ancora le rovine dell'abbazia della Santissima Trinità. Guardandomi indietro scorgo l'Etna in distanza. Ma più sto attento avanti, poiché cerco un albergo. C'è, infatti. Che indecenza! È una bottega ad ogni sorta di porcherie vive e morte. Porco in salami attaccato al soffitto. Porco in sugna negli orci. Porco vivo che grufola negli angoli. Il padrone è la padrona. Camere da letto ce n'è una sola. Ed è occupata da un ingegnere che rileva per il catasto. Bisogna che cerchi fuori. Tra altri vado dal farmacista. Francamente, piuttosto che prendere una medicina là, mi lascio morire. Altro che antisepsi. Credo che sono colture di microbi anche le soluzioni di sublimato di quel farmacista. Ma le ricerche d'alloggio sono inutili. Torno all'albergo, dove naturalmente non c'è nulla neanche da mangiare. Ad occhio una gallina e le faccio tirare il collo. Questo mi fa passare per un creso. E la meggera con l'orco si decidono a cedermi la loro camera. Conversazione seria. Alla sera, conversazione con l'ingegnere, che è in Calabria da quattro anni, col pretore e con qualche altro impiegato. Ecco il sunto dei loro chiacchiere. I proprietari, se hanno un figlio, ne fanno un avvocato. Se ne hanno due, uno è avvocato, l'altro medico. Se tre, l'ultimo è farmacista. Ne avessero dieci, nessuno studia per essere agricoltore. Il maggiorasco, abolito giuridicamente nel 1860, sopravvive negli usi. L'arvato con le scappatoie conestate dalla legge. Alle ragazze si assegnano doti su perizie false o esagerate. Ai cadetti, rassegnati, si danno lucciole per lanterne. Il terra è feracissima, coltivata male e non intensivamente. Il concime, per esempio, neppure si sa che sia. Spese per sementi non se ne fanno. Gli aratri sono rudimentali. La lavorazione è appena superficiale. L'allevamento del bestiame, malfatto, con razze miserrime, senza criteri razionali. Per esempio, neppure si hanno due distinte razze di bovi per lavoro e per macello. Il caseificio, poco meno che sconosciuto. La viticoltura affidata all'ignoto e al caso. Vengono la peronospera e la filossera? Trovano vigneti indifesi. La proprietà subisce in provincia di Reggio, Calabria ulteriore prima, un riflesso dell'attifondismo siculo. Malgrado ciò, il contadino non è troppo depresso. E allora mi domando come si spiega l'immigrazione in America che ha portato via mezza popolazione. La sicurezza è dappertutto piena ed intiera, almeno dei dieci anni. Non vi sono affatto malviventi di mestiere. Si potrebbe andare attorno con loro in mano. Le popolazioni sono ospitali. Le osterie sono rovinate dalle ferrovie. La malaria è insensibile diminuzione. Le lotte politiche sono assai accentuate. L'istruzione è poco meno che nulla. I libri stampati nell'interno del paese non si sa cosa siano. I reati di sangue frequenti fra compaesani per questioni di gelosia, di sette, di donne e per ubriachezza, ma mai a scopo di furto o di rapina. Tardi vado a letto. Speculo nelle coltri. Non c'è male. Dio me la mandi buona. Per oggi il cinematografo cessa di roteare. Grazie a tutti.